Si avvicina l'esordio della Nissa nel prossimo campionato di eccellenza 2022-2023 che per i ragazzi allenati da mister Alessandro Settineri comincerà domenica prossima da Casteldaccia. In casa biancoscudata intanto tiene banco la questione Stadio Pian del Lago. Con l'indisponibilità dello stadio la Nissa ha dovuto effettuare il ritiro estivo tra Petralia Soprana e Riesi. Domani giovedì 1 settembre è un giorno fondamentale. Da Roma arriveranno i delegati della federazione che controlleranno lo stato di avanzamento dei lavori e se sarà tutto ok daranno l'assenso per il posizionamento del tappeto anti-shock e del mando erboso. Da quel momento alla ditta che sta eseguendo i lavori occorreranno circa 15 giorni. Quindi si andrà intorno al 16-17 settembre per avere lo Stadio Pian del Lago nuovamente disponibile per le partite. A questo punto il ritorno di Coppa Italia con la nuova città di Gela mercoledì 7 e l'esordio casalingo con il Marineo Lundici in campionato dovrà avvenire lontano da Caltanissetta. Probabile non sia Riesi avendo la tribuna dietro la porta ineggibile. Più probabile a questo punto Ravanuso o un altro stadio che sarà indicato dalla federazione nei prossimi giorni. L'esordio Pian del Lago a questo punto dovrebbe avvenire dopo la sosta il 2 ottobre della quarta giornata di Nissa Parmonval. Se non fosse così sarebbe un danno enorme per la società biancoscurata sia per la presenza di pubblico e sia anche per le questioni e le sponsorizzazioni. Pian del Lago è a questo punto vitale e necessario per la nuova Nissa.